Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornate sul canale di Podcast 91. Come vi dicevo, dal 20 ricomincerò una programmazione più o meno regolare di video. Sto facendo delle ricerche per nuovi argomenti e la pirottina, ovviamente, che deve occuparsi della parte montaggio e di editing, ci sta mettendo un po', perché comunque sono video complessi da montare e anche le immagini da trovare per questi determinati argomenti non possono essere trovate così facilmente, quindi dovete attendere ancora un po' per il grande video che vi ho promesso. Però oggi invece facciamo un video preparatorio, perché poi magari ne farò un altro, sui reality show e sui talent show. Perché inquadro azzura del nulla? Perché per me queste cose rappresentano il nulla. Quindi talent show e reality show per me rappresentano il nulla. Quindi immergiamoci in questa pozzanghera putrida e cominciamo a parlare dei talent show e dei reality show. Innanzitutto, qual è la differenza tra questi due? Molto spesso voi vi verrà da dire, ma sono la stessa cosa, sempre la stessa cacca. Sto cercando di non usare parolacce per evitare che YouTube mi censuri il video come se non ci fossero domani. Cioè magari tutti gli altri lo fanno e non succede niente, lo faccio io con i miei 90 iscritti e mi butta giù il canale. Quindi evitiamo, useremo dei sinonimi delle parolacce. Quindi, sono tutti la stessa cacca? Invece no, perché c'è una cacca diversa dall'altra. I reality show sono, non so, per esempio il Grande Fratello, la Fattoria, la Pupa del Secchion, l'Isola dei Famosi. Quindi persone che non hanno necessariamente un talento che vogliono sviluppare. Mentre i talent show sono tipo Amici, X Factor, Italia's Got Talent, quelli sono i talent show. Quindi, fatta questa precisazione, cominciamo a parlare dei reality show. Grande Fratello nasce negli anni 2000, sempre su Canale 5, con dei personaggi che all'interno, che però non erano personaggi conosciuti, erano persone comuni. persone comuni che poi, una volta usciti da lì, hanno preso strade diverse. Chi è rimasto nel dimenticatoio e ha detto, vabbè, ha fatto un'esperienza di cacca, però almeno qualcuno in tv mi ha visto, finisce lì. Chi è diventato attore, anche un bravo attore, tipo Luca Argentero, che io apprezzo molto come attore. Dei film che ha fatto sicuramente sono discutibili, perché sono i classici cinepanettoni, però lui come attore non è male. E poi ci sono, almeno ha fatto delle scuole di attori, mentre molti che sono adesso sui grandi schermi non l'hanno fatto. Quindi, poi ci sono persone che si sono dedicate alla politica, persone che hanno semplicemente sfruttato l'onda per fare delle serate in discoteca e guadagnare qualcosa. Perché no? Se si può. Però erano persone comuni, persone che tu comunque sentivi più vicine a te, perché non erano persone abituate a agi, lussi, no? Li mettevi insieme con un solo bagno, quindi con una sola toilette, e se stavano male in due, nello stesso momento, sti cavoli, no, scherzo, ci sarà stata una soluzione, però per non farle soccombere i concorrenti del gioco, ma sicuramente era una situazione comunque di disagio, comunque messere in venti con un bagno solo. Cioè, ah, già in quattro noi con un bagno solo, cioè, tra un po' dobbiamo prendere i bigliettini come al prosciuttaio. Sì, lo so che si chiama gastronomia, però mi piace chiamarlo prosciuttaio. Detto questo, durava tre mesi e poi finiva questo tormento. E invece no, adesso hanno messo là dentro personaggi famosi, alcuni li hanno riportati alla luce dagli anni sestanta, che non si vedevano in televisione, giustamente non sapevano più da quale alveare, prendere il loro miele, quindi hanno detto, bah, proviamo a imbucarci lì, vediamo di farci capire e ricordare alla persona che noi siamo esistiti, che abbiamo avuto una carriera nel mondo dello spettacolo, che siamo dei VIP. E giustamente è nato il grande fratello VIP, che tutti conoscete, purtroppo, che ha cominciato a durare da tre mesi a 27 anni, come minimo, e che non finisce più. Io ho perso il conto di quando è iniziata questa edizione, io speravo che con la faccenda del caso Bellavia chiudessero questa edizione e basta, perché era stata veramente una roba assurda. Ma invece questa cosa non è avvenuta e siamo arrivati a dei livelli sempre peggiori, subrette, mezzanude, che stanno mezzanude in casa, non si capisce perché a febbraio, anche se sei in casa, dovresti stare in costume. Scene lunghissime di docce, persone che si mettono insieme, che si separano, persone che fuori hanno una famiglia intera, che però stanno dentro e si innamorano di una e fanno cose sotto le copie. Non vi dico, non vi sto neanche a dire, perché immagino che già sappiate di che cosa stiamo parlando, sappiamo già di che putridume stiamo parlando. E poi c'è l'Isola dei Famosi. L'Isola dei Famosi ha sempre avuto i famosi come protagonista, si chiamava l'Isola dei Famosi per forza, però una volta c'erano anche i non famosi, quindi tu ti cementavi in quelle persone, dicevi, eh sì, è vero che quell'attore vi piace, però questo poveraccio che è un padre di famiglia sta lottando per arrivare alla fine dell'isola e potersene ritornare a casa, sano e salvo, voto per lui. Quindi ti medesimavi, un po' come si parlava del grande fratello, nelle persone, perché erano persone comuni, non VIP abituati a tutti gli agi possibili, no? Invece no, adesso vedi sti VIP che si tirano i capelli, che si menano e che cercano di accaparrarsi il cocco, anche se devono spiaccicare per terra i loro avversari, e l'unica cosa che ti viene da dire è adesso sai cosa vuol dire essere povero? È l'unica cosa che ti viene da dire, no? Perché poi ti viene anche, no? Da pensare, sei miliardario, chi te l'ha fatto fare di andare là? So, cazzi, tua. Ecco, ho detto la parolaccia, scusate. Scusate, mi è scappata la parolaccia. YouTube, spero non non si arrabbi. Detto questo, diciamo che è proprio una cosa orribile, veramente una cosa orribile e assurda e poi ci sono altri reality, non mi sto neanche a dire la pupa è il secchione, c'è bisogno che lo commenti, queste pupe che venivano interrogate su argomenti basilari che un bambino dell'elementare li saprebbe cantando e non rispondevano. A me sembrava tutto preparato perché anche qui andiamo a toccare uno stereotipo, non è che tutte le donne belle sono stupide o tutti gli uomini belli sono stupide o viceversa. Cioè, quindi, boh, alimentiamo gli stereotipi, tanto siamo in Italia il paese degli stereotipi. Poi c'era la fattoria, ragazzi, e poi adesso il collegio, sti ragazzini che vengono messi dentro il collegio. Perché ormai vanno di moda anche mettere i ragazzini giovani, no? Una volta io ricordo che per andare ad Amici dovevi avere 18 anni, adesso no, c'è gente che ne ha 16, no? E poi tutti sti ragazzini 16, 17, 18, te li trovi a Sanremo, no? Dici, ma chi sono questi, no? Una volta per arrivare a Sanremo c'era una gavetta importante, non solo a livello di cantanti, ma anche a livello di presentatori. Cioè, il presentatore, no? Mi viene in mente a me Pippo Baudo. Pippo Baudo ha una carriera da presentatore, io non è che abbia seguito Pippo Baudo, ma tutti lo sanno. Se io ti dico Pippo Baudo, tu già sai che ha avuto una grande carriera. No? E quindi presentavano Sanremo, magari, questi presentatori di alto livello, con magari una spalla, che era magari una figura, una grande figura nel panorama, comunque musicale, dell'epoca, no? adesso che va a chiunque a presentare. Va a Chiara Ferragni. Chiara Ferragni che competenze ha dal punto di vista del presentare dello show business. È solo una ricca che ha avuto fortuna. Quindi io non capisco. Ma poi ci ha messo di tutto a presentare attori. Mi sembra un po' esagerata sta roba. Quello che c'entrava di più in questo Sanremo, quello che aveva più senso di stare sul palco era Morandi, perché ha fatto la storia della musica italiana. Che le sue canzoni piacciono meno, sono dettagli, possono piacere come meno. Però ha fatto la musica della storia italiana. Quindi era l'unico che aveva il diritto di stare su quel palco, secondo me. E va bene. E quindi sti talent show, no? Che io dico, va bene, tu hai fatto la scuola di amici, ok? Hai fatto sei mesi di scuola. Hai affinato la tua tecnica da cantante. Ma non sei un cantante così bravo da andare a Sanremo. Cioè, fatti un po' di gavetta prima, santo cielo, ragazzo. No, ormai a Sanremo va tutto. E ma è Sanremo giovani, direte voi. E che vuol dire? Sanremo giovani dovrebbero essere dei giovani che comunque hanno fatto più di sei mesi di scuola di canto. Cioè, capite? Però va bene. Cioè, nel senso che ormai è così. Cioè, ma io dico amici, ma può essere X Factor, Italian's Got Talent, dove lì invece non conta il talento. Lì conta la storia che hai dietro. Se tu vai lì e dici io so suonare sulle ginocchia, però poi gli racconti la storia tragica tu arrivi in finale. Cioè, è così, no? Molte persone hanno delle storie tragiche che se le tengono da loro e quindi non avranno mai successo. Perché non le raccontate, è questa la verità. Non le raccontate e quindi non avrete mai successo per questo. Detto questo, questo era un video diciamo un po' satirico per farvi divertire. Spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Spero che non mi buttino giù il video per la parolaccia, ma io sento un sacco di video con parolacce, quindi non capisco perché dovrebbero buttare giù il mio che ne ho detta una per sbaglio. E a presto!